Non sono mancati gli attacchi da parte dell'opposizione dopo l'interruzione dell'ordinanza che doveva essere emanata dal presidente Luca Ceriscioli a fronte del coronavirus. Arrigoni della Lega dice che la regione non è in buone mani secondo il senatore Ceriscioli non ha coraggio ad emanare un'ordinanza e il premier è un irresponsabile. Acquaroli di Fratelli d'Italia incalza un'intromissione che ci lascia perplessi perché secondo il deputato e candidato in pectore del centrodestra della regione Ceriscioli tratta le Marche come una regione commissariata dal governo. Il capogruppo di Fratelli d'Italia, Marche e Jessica Marcozzi invece ribadisce i marchigiani gli italiani meritano chiarezza e ancora conclude una volta i sindaci lasciati soli nel dover rispondere alle legittime domande dei cittadini. Non è mancato anche il commento del senatore Battistoni commissario di Forza Italia per le Marche dice è urgente la nomina di un assessore alla sanità per Ceriscioli solo figuracce. La telefonata del premier Conte al governatore è stato forse un momento più imbarazzante dell'intera legislatura. Il signor Conte, il primo ministro, che ha chiamato perché ha chiesto di, come diciamo prima, l'ordinanza va coordinata con il ministro della salute vi dicendo siccome hanno intenzione domattina di emanare degli indirizzi di carattere nazionale cui chiedono le regioni di attenersi ci hanno chiesto di sospendere l'applicazione e anche la firma dell'ordinanza al confronto che ci sarà domattina.